Il nonno è Babbo Natale. Sì, unico e incredibile. Ovviamente non quanto a me. È vero. Forte. E quindi voi siete i suoi piccoli aiutanti. E ci troviamo al Polo Nord, da dove partono i regali. Corretto. Corretto. Super corretto. Wow. Ma il nonno sa che ti trovi qui. Non vorrei... No, aspetta! Nora, non entrare! Il signor Krauss non sarà affatto contento. No. Yul, pensaci tu. Cosa? Io? Certo. Hai visto quanto è grande? Sì.